Pallavolo, la maglia del libero titolare di Trentino Volley per la prossima stagione tornerà a essere indossata da un giocatore straniero. Lo specialista della seconda linea giallo-blu sarà infatti il tedesco Julian Zenger, 24 anni ad agosto, prelevato dal Berlin Recycling Volley. I dirigenti trentini lo hanno notato proprio durante il doppio confronto dei quarti di finale di CEV Champions League, giocato dalla Trentino Itas nello scorso marzo contro la formazione campione di Germania. Julian arriverà a settembre a Trento per vivere la prima esperienza personale lontano dal suo paese. La Trentino Volley è al nuovo libero, il tedesco Julian Zenger, 24 anni, giocatore esplosivo con ottime qualità in ricezione, difesa, è stato notato dai dirigenti di Trento in occasione della sfida dei quarti di finale di CEV Champions League. La Trentino Volley disputò a marzo contro il Berlin Volley, formazione campione di Germania. Julian ha militato per otto anni appunto nel Berlino nel 2016, indossò per la prima volta anche la maglia della nazionale tedesca. raggiungerà il gruppo Trentino nel prossimo mese di settembre. Sarà il quarto tedesco a far parte di un organico della Trentino Volley dopo Hubner, Walter e Bachmann.